I miti, uno è Berlinguer, che non può essere toccato. Certamente era molto migliore di tutto ciò che è venuto dopo. La subalternità del Partito Comunista al paradigma economico comunque dominante è un fatto accertato, è un fatto storico. Non hanno mai pensato di saper fare qualcosa di diverso, hanno sempre solo preteso di saper fare meglio. A volte è stato vero, a volte no. Quando hanno capito, a volte lo hanno detto, c'è un famoso discorso di Napolitano che gliel'ha poi scritto spaventa sull'ingresso dell'Italia nello SME, e lui l'ha capito, l'ha detto, è un modello deflattivo volto a distruggere il potere d'acquisto dei ceti medio-bassi e a punire severamente le organizzazioni dei lavoratori. bravo, però poi è stato lettera morte, è caduto lì così. Anche perché, bisogna dire, che se mai Berlinguer avesse avuto un'idea di autonomia, non dico terza via perché non voglio offenderne la memoria fino a questo punto, gliel'hanno fatta passare molto in fretta, ammazzando Moro, che era l'unica sponda che c'era sul mercato, e naturalmente con quell'uccisione la nostra fedeltà al modello atlantico e neoliberista è stata garantita per sempre. Ma penso che non ce ne sarebbe stato bisogno. È stata una vita sacrificata probabilmente inutilmente. Non saremmo stati un grande pericolo per il capitalismo mondiale. Non volevamo esserlo, non potevamo. E le cose sono andate a finire come dovevano andare a finire. Io potrei cavarmela dicendole, non sono mica io che dico che la sovranità è un vinco, è un scudo. Sono quelli che votano i partiti cosiddetti sovranisti. Anzi, ho anche detto, non è probabile che lì ci sia la soluzione. Però almeno fatti lo sforzo di capire che cosa sta succedendo. Questa è la prima risposta superficiale. La seconda, sì, sono pieno di allievi che mi dicono proprio tutti questa roba qui. Si tratta semplicemente di fare una scommessa. E' vero che la potenza del capitale, il biopotere capitalistico è invincibile? Ci sembra di sì. E' sì. E' pervasivo. Tutta la società è una società di mercato. Questi non sono slogan da centri sociali. Questa è una fotografia del presente. Ditemi qual è un ambito dell'esistenza che non sia sottoposto a valutazione e monetizzazione e mercificazione. Ditemene uno e poi dopo io sono contento. Io ne ho trovato uno solo. Entrare in una brutta chiesa per pregare. Quello te lo lasciano fare. Già se la chiesa è bella, devi pagare per entrare. Non c'è altro ambito dell'esistenza. Studiare? Sei valutato. Fare ricerca? Non ne parliamo. Sei sempre valutato, di solito da persone incompetenti. Arte? Beh, la parola d'ordine è valorizzazione. Valorizzazione vuol dire mettere sul mercato, trarre valore. Sanità? Beh, te la fan pagare. A me piacerebbe fare che qualche sociologo statistico si rendesse utile una volta nella vita facendo un facile controllo sull'età media dei ricchi rispetto all'età media dei poveri. Sull'aspettativa, anzi, sull'aspettativa media di vita dei ricchi rispetto ai poveri. Ficcio così. E poi lasciamo che qualcuno ne tragga qualche conseguenza, se è capace. Ditemi un ambito dell'esistenza in cui si può fare a meno del capitale e delle sue logiche. Non c'è. E io, senti, sono vissuto in un'epoca in cui c'era, ci mettevano dei muri, dei muri fra la scuola e l'economia. Anche fra l'università e l'economia. Non servivamo a niente, però almeno non eravamo valutati, non eravamo monetizzati. non ci toccava rispondere a domande idiote del tipo quanti brevetti hai ottenuto e quali sono le ricadute sul territorio della tua ricerca. Cosa che tutti i santi giorni tocca fare. Le ricadute sul territorio della mia ricerca. che se non ci sono ricadute sei uno che ruba lo stipendio. Dice, ma io studio il rapporto fra Adorno e Hegel, quindi non vedo grosse ricadute. E perché studi questa roba? Come ti permetti di studiare questa roba? Chiaro che un potenziamento della sovranità se fosse possibile potrebbe anche significare soltanto che queste logiche vengono implementate, rafforzate, militarizzate, magari condite di un qualche diritto di intolleranza verso quelli che stanno peggio di noi. Così ti sfoghi. classico. Le ho studiate anche io queste cose. È molto probabile che vada a finire. Così se la richiesta di sovranità la intercetta sola a destra è molto probabile che vada a finire e che ci teniamo il capitalismo più l'intolleranza. Se per caso la sinistra cominciasse a fare il suo mestiere magari una sovranità rafforzata potrebbe portare il paese verso una situazione di stato sociale non dico come quella degli anni 60 o 70 ma una situazione di minor squilibrio non si chiede mica tanto. Certamente la prospettiva che devi avere in mente è quella di superare la forma di produzione capitalistica perché se non ce l'hai in mente non fai neanche il primo passo che come sempre in attesa della rivoluzione mondiale è un compromesso costringi l'avversario a un compromesso non è difficile è stato fatto torniamo a farlo adesso c'è un pugile vittorioso e l'altro al tappeto dice ma è sbagliato leggere le cose in questo modo siamo tutti sulla stessa barca il corpo sociale è un corpo organico non ci sono vincitori e vinti eccetera eccetera e questa è la favola dell'ordoliberalismo la favola del neoliberismo è non mi importa niente di vincitori e vinti la vita è una giungla vinca il migliore e vai al diavolo l'ordoliberalismo dice no c'è un corpo sociale organico c'è posto per tutti purché non ci sia l'idea di una lacerazione di un conflitto ci deve essere l'idea della collaborazione poi vedrai come andiamo bene non hanno funzionato queste cose o se stanno funzionando il neoliberismo sta ancora funzionando da qualche parte del mondo Stati Uniti con costi sociali crescenti cioè non a caso le elezioni le ha vinte Trump che naturalmente non è un comunista anticapitalistico ma è stato percepito come perché se no i voti dove li prendeva è stato percepito come il difensore dei perdenti nei confronti di poteri troppo forti lui era quello di sinistra e la Clinton era quella di destra la Clinton stava dalle parti dei vincitori non è vero l'hanno venduta così lei non ha saputo svendersi ecco poi il risultato è che pare che il capitalismo ci sia ancora negli Stati Uniti e che non sono abbastanza informato per dire peggio o meglio certo c'è pure la ripresa economica per cui in breve ti dicono beh gente che prima era disoccupata adesso ha un lavoro cosa vuoi di più della vita certo è pagato questa vita con la sottomissione ogni minuto della tua esistenza alle logiche del capitale ogni minuto della tua esistenza cioè se vuoi scappare devi finire in mezzo ai boschi forse però almeno il posto di lavoro glielo dai alla gente certo poi ci sono i poveri grassi che non hanno che non hanno la sanità ci sono e come eccetera eccetera cioè nessuno pretende la felicità in terra però noi qui possiamo fare meglio sì in che modo costringendo il capitale a un compromesso dice ma come abbiamo un capitale esile anemico tu lo vuoi pure costringere un compromesso tanto quello resta esile anemico gli abbiamo spalancato tutte le strade gli abbiamo fatto tutte le deregulation e quelli continuano ad essere esili anemici allora e in compenso abbiamo distrutto la società e siamo lì per distruggere la democrazia complimenti perché se è vero che quelli che votano certi partiti sono tutti fascisti beh allora la notizia è che più del 50% degli italiani è fascista mi pare leggermente esagerato ma certamente più del 50% degli italiani non è amica dell'ordine di cose esistente dentro l'ordine di cose esistente ci sono le buone maniere la bontà verso i migranti il rispetto degli altri e anche la democrazia più di metà degli italiani ha parecchio da ridire su tutto ciò complimenti abbiamo maledetto i democristiani per decenni mentre insieme ai comunisti facevano l'italia adesso ci toccherebbe pure applaudire a questi che la stanno distruggendo e dire che va tutto bene e che l'italia è un grande paese di grandi eccellenze che abbiamo i cuochi migliori del mondo l'elemento derisorio l'elemento derisorio è quello che è divenuto insopportabile tu non puoi andare a dire agli italiani che stanno bene perché non è vero il 20% degli italiani sta benino e il 2% sta bene allora se vuoi il voto del 20% ecco ti accontentato ti raccontavo una cosa che ci vuole il 51% per governare e non lo avrai mai non a caso stava facendo la legge elettorale e la riforma costituzionale congegnata in modo da consentire a chi prendeva il 30% di tenersi il governo per sempre questo è poi si può dire che sono tutti fascisti francamente consegnare metà degli italiani al fascismo mi sembra che sia una definizione un po' estesa di fascismo assomiglia alla definizione che dava Hobbes della tirannide cioè tutti quelli che non ti piacciono tu li chiami tiranni tutti quelli che votano per i partiti che secondo te non dovrebbero esistere tu li chiami fascisti ma bravo però questa non è politica questa non è politica dire certi partiti fossi in meno non dovrebbero nemmeno esistere non è politica no non è questione di fascismo è questione che è stata tirata troppo la corda perché di vincitori ce n'era rimasto uno solo e ha voluto strafare e ha voluto strafare nel bene tutti euforici nel male tutti da castigare per la nostra inveraconda capacità di fare debiti e nessuno che diceva niente io mi ricordo i senatori comunisti poi di Essini che scendevano dal treno a Bologna e dicevano oggi abbiamo votato l'articolo 81 abbiamo fatto bene bisognava votarlo bene ed eccoti ed eccoti il risultato goditi l'articolo 81 e con tutto quello che ci va dietro è chiaro che il primo che dice e io sforo il 3% e io mando al diavolo l'euro e chi sono questi dei Bruxelles piglia i voti è evidente alternativa non mandare più la gente a votare oppure fare tante belle agenzie neutrali tra mille virgolette che si occupano di tutto e lasciano il Parlamento eletto soltanto la determinazione dei giorni festivi come capitava al Senato di Roma durante l'Impero c'era il Senato aveva come compito quello di celebrare i giorni festivi della dinastia regnante vogliamo fare questo la verità è che ci sono problemi strutturali io non so come risolverli però so che ci sono e gli italiani forse è meglio dirglielo perché loro se ne sono già accorti se ne sono già accorti sulla loro pelle del biopotere se ne sono già accorti almeno glielo diciamo e poi gli diciamo anche guarda secondo noi per venirne fuori detto detto in modo veloce biopotere vuol dire capitalismo sovranità vuol dire che a un certo punto arriva un ostacolo un vincolo un limite che si chiama legge questo fai una legge la prima legge da fare abroghi l'articolo 81 la seconda torni a mettere l'articolo 18 non nell'ultima versione nella prima poi poi dopo cominci a rifinanziare la scuola la sanità l'università e poi e poi cominci a fare delle opere pubbliche e poi e poi dici metti sulle tue bandiere il mio nemico è la disoccupazione e se l'inflazione ti schissa al 5% pazienza io ero al mondo quando Andreata emetteva i bond al 23% perché c'era l'inflazione al 22% sono ancora qui non voglio l'inflazione al 22% però come mi dicono tanti colleghi esimi economisti un'inflazione al 5% cosa fa? ti riaggancia ti riaccende le lotte sindacali e beh perché peggio di così? ti riaccende le lotte sindacali bene e facciamo le lotte sindacali e così i padroni si svegliano e i sindacati pure insomma torna un mondo fatto di sacrosanti fisiologici conflitti e questo è un discorso moderatissimo che se l'avessi fatto nel 68 mi avrebbero bastonato va bene se lo faccio oggi passo per essere peggio di Lenin ecco non si può vivere in un perenne stagnante declino perché fermentano i rancori le insoddisfazioni e gli odi ma non perché ci sono i cattivi maestri perché c'è una cattiva politica e un cattivo paradigma economico o lo diciamo o diamo tutto in mano alla destra la destra economica prima fa i soldi poi fa i disastri poi arriva la destra politica sociale e noi cosa ci stiamo a fare? bah qual è il nostro scopo nella vita? boh tutto la destra fa bravi e io così per un vezzo da anziano sono ancora di sinistra guarda un po' però non per fare le cose della destra eh no quelle c'è le fanno loro meglio no non le facciamo noi noi dobbiamo fare delle altre cose cominciare dalla nuova analisi nuovi paradigmi che poi sono vecchi però suonano nuovi e per stare alla sua alla sua domanda se lei ha ragione non c'è niente da fare allora uno lo accetta e sai cosa c'è di nuovo? ti saluto e vado a pescare è che non è vero nessuno ha pienamente ragione non è vero che il biopotere del capitale è invincibile è potentissimo però c'è una cosa che mi conforta il fatto che il capitale e i suoi ammennicoli mediatici continuano a temere selvaggiamente la politica lo Stato la sovranità e i partiti invece di dire ma sì poveri cari a noi piacciono i partiti no continuano a dire che sono brutti sporchi e cattivi questo mi fa pensare che ne abbiano ancora paura e allora se loro hanno paura c'è ancora un po' di speranza come vedete è una porta stretta però il giorno che diranno beh ma siamo sovranisti anche noi allora abbiamo chiuso può darsi che molto presto arrivi certamente se noi non intercettiamo niente di quello che la società non ci dice ci urla se non intercettiamo niente è chiaro fanno tutto loro poi io non faccio più politica ma mai l'ho fatta ma insomma oggi meno che mai consegno queste parole a chi mi vuole ascoltare e a chi eventualmente voglia far politica ne faccia l'uso che gli pare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.